Ciao cari sono Atrix, signori bentornati cari del canale Torniamo su The Marvel Snap, qui insieme al colonnello Mario Tadillo E insieme al primo giorno della carta che dovrebbe in qualche maniera venire a salvare il meta La carta Mobius Colonnello buongiorno Buongiorno Mi sto sorseggiando questo caffè Nel frattempo cerco di capire se come tutte le altre volte andremo tendenzialmente a comprarci la carta Nella speranza di trovare la variante oppure faremo in altra maniera Cortesemente colonnello mi condivida, mi istruisca Non è che secondo me compriamo solo la carta perché domani esce quella là di la variante di The Nip E quindi mi prendo la The Nip che è più bella Cos'è che fa Mobius e per quale motivo caro oggi è un giorno così importante, prego Allora Mobius praticamente non permette alle tue carte di essere Più criptico, più criptico, più criptico Non permette di scontare alla persona Perfetto, grazie mille colonnello per la disamina Finca la carta Quello che farà la carta la gente lo vedrà Non occorre che ci vuole fondamentalmente un piccolo sussidio Se poi uno è in ritardo non è che puoi salvarlo detta Dillo Non possiamo salvarli tutti colonnello, non ti preoccupare Sì, credo che Ico sia ritardato Per questo va preso in giro? Sì Tutto d'accordo con te caro, buongiorno Allora, quello che faremo noi O meglio quello che farà il colonnello in questo istante Prima di tutto, passami un mazzo con Mobius perché non ne ho uno Allora, siccome tu dicevi che non potevi perdere tempo E dovevamo saltare subito la registrazione E tu hai detto, oh aspetta 5 minuti, nel frattempo trovati il deck Essendo che hai preferito brattarti le palle Perché ti sei svegliato circa due minuti fa Ti fotti Me lo trovo da solo Tanto tendenzialmente hai preferito giocare a quel gioco di merda della DC Quindi, oh me Sta giocando al gioco della DC Dice che la modalità avventura è molto divertente Come Facciamo ai traditori? Li facciamo mangiate i niti Come diceva Nell'arte della guerra Conosci il tuo nemico, ricordate Ok Abro 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 Vogliamo rigiore all'Ubero? Vai, 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 mi piace Devo dire un baero Signori Dopo una vita E dopo tanto tempo Ah, è vero Perché c'è il ritorno del baero Perché C'è il ritorno del baero Perché? Perché Wave non va a fliggere le tue carte Bravo Wave non va a fliggere Eh, colonnello Spiegati meglio Altrimenti mi inizia un gazzabbro Spiegati un secondino meglio Ma soprattutto Ma soprattutto Ma soprattutto Cortesemente Ma dove sta Zano? Dorme Perché ha detto No, io non ci va Con quel ritorno di Matrix Non ci voglio registrare Ma se dorme Come ha fatto a dire una roba del genere? Eh, l'ha detto prima di addormentarsi Ah, l'ha detto prima di addormentarsi Prego, continua Continuo Perché praticamente Se hai detto che costa zero Ok E usi wave Wave non va ad affliggere Sì, l'avevano capito tutti Era l'unico che c'era il suo punto di domanda E quindi In realtà Essendo che la secondina L'ha dovuto Dirla sta roba Non era scontato Hai intenzione di interrompermi Per tutto il proseguo del video? Sì, sì, sì Ah Cazzo, ok Eh, benissimo Quindi dopo tanti mesi di inattività Oggi Signori e signori Torna Il Baero E ovviamente Lo farà Con la nuova carta Mobius Che come vi ha spiegato il colonnello Ha un effetto singolare Ma che stai facendo? No Come no? Ma te la vuoi comprarla? Come ti? Vabbè È una carta funzionale Ah, e te la vuoi comprarla con i token La carta, ragazzi Mobius Entra in un meta In cui il mana cheating È ben presente È ben possente E quindi L'idea Di questa nuova carta Tendenzialmente È proprio quello di andare a Distruggere tutti i due malzi Che Traggono vantaggio Per l'appunto Da mana cheating Che sono Il collector loghi Uno in particolare Non so che cazzo di mazzo Sto giocando Poi Tendenzialmente L'alto evo L'alto evo Colonello Che trae ovviamente vantaggio Per l'appunto Dal cheating di mana Una carta come Mobius Va a distruggere Per l'appunto Questo mana cheating E in un mazzo Di questo tipo Come per l'appunto Quello del vaero Visto che Mobius Non affligge più La condizione di Death Che voi potrete giocare Ovviamente A un costo ridotto La giocata di wave Può essere simile Paragonata A quella che c'era In passato Per l'appunto Con il vaero Bro lui ha stampato Noi ovviamente Al rank 54 miliardi Chiamiamo Immagino Vero? Ok Ti chiedo scusa amore Se ti insulto circa il tuo rank Ma insomma Mi fai sorridere Perché? Così Perché c'è il tazzetto E devi E quindi Il rank È un tipo È un tipo di orgoglio Sì Ovviamente sì Sono d'accordo Con l'avvocato Ovviamente sì Voglio ricordare In questa semestima Giocheremo a minecraft E non è vero Non è vero Cioè è una cazzata Questa che hai detto Eeeh Mobius Sta al posto Di Deathlock Hai notato Colonnee? Eh sì C'è C'è un Destroy In me Eh la cosa Come ti fa sentire Ma è come te Che hai giocato Che Mi sono giocato A Yon Sul Cosmo Eh non è che ce l'ho giocato io Che cazzo Devo fare Brav mia posienza Mobius Eeeh Famo wave Mobius Famo wave Sì ma come vinciamo Sta partita Secondo te Secondo me Non la vinciamo Però Mango per me La vinciamo Ora non so Proviamo Il problema Non prendiamo Meno 27 miliardi Di punti in meno Con Yotunheim Il problema Qua sarà capire Se vogliamo Meno giocare I detti in mezzo Colla Secondo me Ci tocco Ok Cioè Perché adesso Lui potrebbe giocare Hulk in realtà No 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 Ne sono consapevole Bro ne sono convinto Però Me rigioca wave Wave Il problema Adesso è che Lui mi giocherà Hulk a sinistra Noi ci avevamo 7 punti a sinistra Bro E dovremmo sicuramente Giocare American Javets Cosa che andrò Sicuramente a fare Oh ma sono già pure Carneggio bro Così per ride Ma è una piccola risata Criptica Non ho detto ritardo Ma sono ma caro Comunque come sempre Grazie mille Per regalarmi questi Presenti e questi doni Quant'è Hulk bro Più o meno di 200 Signori Mobius 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 Eh Ha fatto niente Ah sai che fa Mobius Impedisce che il costo Delle tue carte Venga aumentato Ma impedisce anche Che il costo Venga ridotto De quelle nemiche Un traspettatore Ah bro no Complimenti Mi sono anche perso Durante la disamina Complimenti Axel Complimenti veramente Senti un po' a una cosa Bro Poi a quella Come è finita La mamma di Ico Ho scaricato Tinder Sai cosa Questo è proprio il colonnello È iniziata la sessione Alla sapienza Degli universitari fuorisede Ho visto tanta Di quella fregna Che non ho mai vista In vita mia Bene Axel Adesso tranquillo Calo calmati Come sempre Ti invito No 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 Ehi ma che cazzo Vogliamo fare bro Il mosso del Circeo Sei tranquillo Sei tranquillo Stai a casa Masturbati Non uscite casa bro Non andare a incontrare gente Potresti fargli del male Colone Mi piace Mobius Credi che sia stato D'impatto Nella partita precedente Credi che effettivamente Madonna Siamo riusciti a giocare Carnage Non avremmo mai Giovato quel Carnage Adesso Bravo Esatto Mobius No No Vabbè Ovviamente Bru qua Ti snappo Che gioco Mobius È corretto Non sei d'accordo con me Mobius Ok Chi è? È Enrico Ah Non credo che sia io Però vabbè C'è fin da che lo sia Ok Colone Body bars Body bars su kill No immagino Oh yes Ok Dopodiché potremmo fare O Venom Per efficienza De mana Oppure È carina comunque La variante Ridetta Bro Quella del bundle Con lo sfondo dorato Ma soprattutto Bro Io nel tracker Lo vedo con lo sfondo dorato Chiedo scusa Però insomma Ah regà Non vi ho ricordato una cosa Adesso vi ricorderò Nel proseguo della trasmissione Che poi è un video Oh mettete like al video Seguite la pagina Che pagina? Seguite la pagina Vabbè Seguitemi su Instagram Oh Oggi è il 26 di settembre No no La metto La metto La metto Non è importante La partita La partita abbiamo vinto Per Mobius Quindi che fa a cagare Credi che in questa partita Tu credi che questo game Non l'ho vinto per Mobius? No perché Tutti solito Quindi la partita è utile Da mettere Bro È una vittoria Importante Per quelli Oh bro Però mi devi far parlare Altrimenti la prima volta Che becco Far con madre In giro Tu sai niente Penso che ti massacra Anche perché Mi massaccherebbe De botte Bro Che succede il 26 di settembre? Il 26 di settembre Se avete lasciato Un like a questo video Avete followato il canale Avete followato Atrix Officio Bravo Avete followato Mario Tatillo Ovviamente Mi devo infilare Ok treno 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 Prego È andato via Prego Ok Praticamente È passato il treno C'hai miliardi Hai comprato casa Sui treni Vabbè Vivo sopra la ferrovia Per favore Dai continua Vai Praticamente Oggi 26 Da oggi 26 settembre Su Twitch Regalare una sub Vi costa il 25% in meno Perché dovreste regalare una sub? Perché? Perché sotto 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 quello strato di merda Che ci avete addosso Ok? Perché? Siete delle belle persone No Ha preso Mobius Vabbè Non fa niente La mia netta è stata un attimino del fata Ragazzi miei Mi raccomando Venite stream E donate Una piccola sub a Mattia Fatelo per me Raga Fatelo per me Meno merito Ma quindi si sono annullati i due Mobius Si annullano Capito? Si annullano Il problema è che adesso Non ha senso Cosa non ha senso? Cioè Ha prevaricato Ah no Ha prevaricato il suo di Mobius No 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 Si annullano entrambi bro Eh no Perché tu E allora non dovrebbe costare 8 debt Sì Tutte le carte costano il prezzo basale del mano Quando entrambi i Mobius sono a terra Le carte costano il loro prezzo originale Capito? Quindi gli sconti che fa debt non Non esistono Non ci sono sconti Non ci sono sconti Vabbè qua dottor 2 no? In Twitch invece c'è il 25% di sconto Eh ragazzo Ma che se poi uno si fa buona per 6 mesi 30% di sconto Dai raga Mi raccomando eh Non perdiamo la pressa Ragazzi 6 mesi di abbonamento 6 mesi di abbonamento Costano meno di una pizza da cracco Molto meno di una pizza da cracco Mobius Mobius Ah perfetto Ok benissimo Questo è molto divertente Snappiamo per festeggia bro Vai Che voglio dire Buggy Bar scarnage Venom A me non mi sembra male Poi tendenzialmente Abbiamo quel dottor Doom Che potrebbe glacciarla Eee Non abbiamo Mobius Ma tanto va Eee Vabbè bro Abbiamo già vinto la partita Abbiamo già vinto la partita bro Carre paghi Bar scarnage in mezzo Venom in mezzo Labbe de Shuri Il doppio C'è il C contro Lui gioca a Daredevil Giocato di main Progetto Pegasus Sai che potrebbe Galactus Devo Allora gioca Spider-Man da qualche parte Se hai paura Dottor Doom bro Se hai paura di Galactus Tipo Provo a predictare Ma non c'ho priorità Tati Ah è vero Ti torna sto fatto Vai Io giocarei così Colossus 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 Bro Eeeh Passa la paura Vabbè tanto Colossus si immagina che sia del distretto No Andi a cazzare Andi a cazzare Andi a cazzare Ok prendiamo Brio In questo modo possiamo fare Spider-Man Uh bagneto pure Uh Facciamo Spider-Man Togliamo Speriamo Boh La carta che gioca Perché anche se prende Colossus Colossus Tipo è Inamovibile Sì Vabbè Siamo tolto Daredevil Bro Fate una ragione Qui gioca al tuo Evo Man Ma quanto sta briccando Sta roba incredibile Follia Venom Non è too much Venom E che gioco Puoi giocarlo A destra A sinistra Cioè nel senso Non ha senso fare Venom In tua magneta Ma non è il fatto Nel post alto evoluzionario Il fatto che giochiamo poi Una carta Altrimenti Altrimenti Bro Posso fare Venom a sinistra Ma è assurdo farlo a sinistra Se posso fare così Tanti punti in mezzo Anche se è too much Perché mette tre punti a sinistra Se posso rimette 200 in mezzo E vince la location al 100% Perché tu dici che lui poi Gioca a Shang-Chi Che ha trovato dal laboratorio Da distretto X Aspetta Mi rispondi solo una volta che Vedere questa carta Immagino vero Ok meno male bro Poteva essere Poteva finire il genio Altrimenti oggi Molto bene Però per giocare Omega Red Potrebbe avercelo Non lo so Noi comunque come Abbiamo già detto Faremo magneta a sinistra E Vediamo È il problema È il problema Che ti può spostare anche Omega Red Eh ma se mi sposto Omega Red Fa 16 punti a 17 Colonne Non ci credo bro Collia Pazzesca sta roba Se ci pensi E ha perso lo stesso Ha perso lo stesso Perché però La tua Bro La tua lungimiranza Non è uguale Colonnello Eh vabbè Hai capito il colonnello bro Non è ridare Cioè Sembra Tutto un po' Un po' criptico Un po' buffo Un po' pacioccone Un po' Non lo sai che ridare Non lo puoi lasciare Non lascerò ridare tu Ma secondo me L'agenda comunque lo capirà No Te lo dico No te lo dico per te Perché lo vedevo Perché non posso lasciare La vita YouTube Perché lo stiamo Continuando a dire bro Per aumentare poi Il mio lavoro Di postproduzione Lo stai dicendo tu Ok Mobius Però sarebbe bello Beccarsi un collector Contro Per vedere come Si comporta Contro Ah bro 50.000 legend Li collector Tu non li becca Becco tutti io Collector loghi E tanto Mobius Non lo prenderò in mano Cosa che sta succedendo Anche per questa partita Perché Perché gioca una merda Valle della muerte Valle della mano Sta diventare sempre Tutto più randomico Quello non è Oh Oh Queenjet Abbiamo preso veramente In collector loghi Si ma ti ripeto Ma se non ci abbiamo Comunque Se non ci abbiamo Comunque Mobius A terra Non è che possiamo Fa' troppo Valle della mano È uno schifo Però vabbè Cazzo devo fare Nel senso Punque è buono Che abbiamo ammazzato Queenjet Visto che Per l'appunto Noi non ci abbiamo Non abbiamo la fortuna Di avere Mobius In mano E Che facciamo bro Che facciamo Puoi fare Demone Puoi fare Demone Carnage Demone Carnage Qua Fa schifo bro Secondo me fa schifo A sinistra A sinistra Perché poi ti ritornano Carnage Demone Allora Ah tu dici Demone Carnage Perché poi mi ritorno A sinistra Ho capito Mi ritorno anche Un sacco di altra Merda a sinistra Però bro E poi c'è Killmonger Da fare Dopo il turno 5 A posto Eccoci qua In realtà possiamo fare Killmonger Sì Diciamo che Killmonger Ci rende Ci abbassa Un bel podette No? A me piace Killmonger bro Va bene Killmonger Il problema poi è capire Che cazzo Ci esce da malle Della mano Capito? E' quello L'unico problema E' il problema pure che Ovviamente Li fa mo Incredibile bro E' follia Una roba del genere E' follia Pazzesco bro Ma è incredibile Mamma mia Ma che sfortuna E che fa Fa wave Fa sto tipo Mi fiori Mi fiori Mi fiori Gitti Pride No Chi fiori Snowguard Possiamo prendere Prio in realtà Se Venom Mi va tutto A sinistra Ok Valle della mano Ovviamente Per fortuna L'ha trollata Cioè nel senso Per lui L'ha trollata Perché lui Ha rivocato il Queen Jet E l'ha ammazzato Noi cogliondo Capito? E quindi Sei plugato Il problema Lui c'ha tanti Troppo a 6 In mano Lui c'ha tanti Troppo a 6 Lo so bro Il problema è C'ha un troppo a 6 Che fa più di 10 punti Probabile Probabilmente Sì Abbiamo vinto Signori Beh Alioth fondamentalmente Se lo mette tutto su Per il culo Perché questa partita La vincono I Doom Bot Se ci pensi I Doom Bot Perché Alioth Puoi andare a contrastare La carta Ma non me contrasti I token Questo video Dovrebbe servire A farvi vedere Mobius ragazzi Però Mobius Noi non lo peschiamo Quindi Fate la roba Fate la roba Fate la roba Fate finta Che lo stiamo giocando E lavorate un po' Di fantasia Purtroppo Il colonnello Porta sfiga E quando gioco Il colonnello Io purtroppo La carta Non riesco a giocarla Ragazzi Sfiga Ma scusami Quando hai sfiga Quando non ci sono io Ma poi Gli di sera Mi parlavi Di coso Di caro Che diceva Polidoro La sfiga Non esiste Polidoro Ah bro Io credo Io credo Nella misticanza Più della saporificatrice Bro Più di lei C'è credo Eccoci qua Ottimo Camartasce Ottimo Io non trovo ottimo Ma Mobius dov'è? Mobius è nel letto Mi sa Eccolo Il suo E la madonna Capo Ma dov'è il mio De Mobius Vorrei Opla Opli 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 Rocket Con una sinistra Ti piace? Sì mi piace Rocket con una sinistra Possibile veramente ragazzi Pensare di giocare Una carta Che è la carta nuova C'è incredibile In ogni modo è così È pazzesco Questo gioco pare che lo fa apposta Ma che è Angel? Vabbè Gli ha dato il T-Scheleon Sì si Deva il T-Scheleon Guarda che schifo Demanda che ci abbiamo E io farei wave Vai Facciamo wave Facciamo dottor doom Ultimo turno Giochiamo Demone Demone Che cazzo devo dire? Dottor doom lo facciamo in mezzo Giustamente Dottor doom lo potremmo pensare Deve in mezzo Sì Dottor doom in mezzo Quanto è che costa death bro? Non mi ricordo Abbiamo distrutto tre E due sue Cinque Costa tre Costa tre Quindi possiamo fare death Demone Demone Ultimo turno Non hai lo spazio Per farle tutte però Perché dottor doom Mette due Due Cioè due spazio Dottor doom è una merda Farlo in mezzo Scusami Allora non lo fai in mezzo Non è che ti devi incazzare Facciamolo qua tipo no? Vabbè E poi giochiamo death Demone Demone Alla fine se ci pensi Il demone fa più punti Di un doom Botto di dottor doom E non me gluga a sinistra Vabbè Questa a noi ci fa paura Coronnello Mai Perché death costa uno? Death costa uno Di che cazzo Di con ti hai fatto? Ma no Mattia scusami Tu hai distrutto tre carte No fermati Però non si trova Perché tu hai distrutto tre carte Tu hai distrutto Guarda i tracker Il tracker tre Tu hai distrutto tre carte E due carte all'avversario Eh Guarda il tracker Eh Ma ti c'avrà ragione il tracker Non c'avrà ragione tutti No lo sai perché? Perché l'hai pescata con Baron Mordo Cioè te l'ha fatta pescare con Baron Mordo Quindi costava sei Mi dicono dalla regia Il sire È vero Quindi è stata scontata Da Baron Mordo Ma come ho fatto ha detto il sire? Perché il sire non lo sento? Ma mi ha scritto Perché sono qua Ah oh non parlava mentre lavoro Bro Sì Mi ha detto che non stava sentito Ma perché non lo senti Ma hai detto Non lo senti Sono qua Certo che lo so Lo so Io l'ho detto io Certo che lo so Perché ha preso No non è vero Certo bro Certo Mi sa che hai perso capo Ma lui era proprio convinto Di vincere tutti i scheleon In questo modo Mobius Ma lui era così tanto convinto Di vincere tutti i scheleon Che ha detto Giocavo tutto sulla cittadella Di Pandora Ragazzi abbiamo giocato Mobius Una volta e mezzo Non so che dirvi Cioè nel senso Abbandono le speranze La cosa che dovrebbe Comunque rimanere La cosa che custodiremo Con cura E che continueremo oggi A provare Durante la stream È Quante volte Mattia pescherà Mobius E soprattutto Il fatto che Mobius Sicuramente Io già l'ho capito Perché lo hanno usato È una carta Che aiuterà tanto Da oggi in poi Ad avere un meta Molto 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 Più fresco E variegato Signori Vi ricordo che oggi Vi aspetto su Twitch Intorno alle 5-5 e mezza Per approfittare Eh Di Subgift Al 25% in meno Il Sire oggi Ha detto che ne donerà Solamente lui 50 Non è vero Grande Sire Vi aspetto in live a capo Un nuovo proseguo di giornata E un grosso abbraccio È bella Grazie a tutti